La curva dei contagi in Campania non scende, anzi, e supera il 18%. Il virus dunque continua a circolare. Nell'ultimo bollettino sono 6.679 i nuovi positivi. In aumento anche i ricoveri in terapia intensiva. Nel report dell'unità di crisi si registrano anche 5 decessi nelle ultime 48 ore, più un altro avvenuto in precedenza. Vincenzo De Luca, a margine di un evento a Salerno, è tornato a raccomandare prudenza. Reggiamo bene per quanto riguarda il Covid. Ovviamente il mio appello è sempre ad avere il massimo di prudenza. Massimo di prudenza significa mantenere l'uso della mascherina sempre, anche perché abbiamo varianti che circolano. Avremo nel periodo estivo un rimescolamento sociale, c'è una ripresa fortissima di turismo. Dal governatore anche dure accuse all'indirizzo del Ministero della Salute sul riparto dei fondi per la sanità. Andremo fino in fondo, fino alla Corte Costituzionale, perché stanno derubando la Regione Campania di 300 milioni di euro l'anno. Due vittime nel Sannio all'ospedale Sampio hanno perso la vita un uomo di 81 anni di Torrecuso e una 66enne di Cervinara. In calo il contagio in Irpinia, dove sono comunque 599 i nuovi positivi registrati dall'Asla Avellino. Sul fronte sanitario sono 18.000 le persone che hanno scaricato l'app per prenotare online le visite specialistiche, mentre De Luca ha minacciato l'invio dei carabinieri nei laboratori privati che esauriscono i tetti di spesa nei primi giorni del mese.